dal 1975 al 2016 ha partecipato ai seminari di analisi collettiva del professor fagioli a sua volta medico psichiatra si occupa di temi dibattuti e attualissimi la metodologia psicoterapica e la violenza interumana restate con noi subito dopo la sigla buongiorno bentornati agli amici di aracne tv il sipario di spazioscenico si apre sul protagonista di oggi giovanni del missier buongiorno 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 professore grazie di aver accettato il nostro invito prima di tutto noi vogliamo sapere chi era giovanni da bambino come si immaginava l'adulto e come nasce questa sua passione per la psico umana da bambino era direi un bambino normale che amava molto giocare a pallone e guardare film come mi immaginavo non avevo le idee ben chiare veramente è in corso d'opera diciamo al liceo che piano piano è maturata una curiosità e un interesse per tutto ciò che aveva a che fare con la con la psiche umana con le materie umanistiche e con la realtà umana in genere conscia e anche poi non cosciente in conscia si forma dal punto di vista psicoterapeutico personale scientifico con massimo fagioli la sua metodologia e soprattutto cosa ricorda in particolare di quegli anni colui di massimo fagioli all'ultimo anno di medicina quando andavo alla ricerca avevo già deciso di fare lo psichiatra di una metodologia che mi convincesse feci varie esperienze finché mi imbattei nella teoria di massimo fagioli e la spieghiamo un pochino per chi non conosce insomma molto sinteticamente mi convinse proprio per i suoi presupposti medici che è raro trovare nella psicologia ovvero come nella medicina del corpo fagioli teorizzava una sanità originaria alla nascita cioè si nasce sani e questa sanità poi va incontro a crisi nei rapporti interumani rapporti interumani violenti e la cosa interessante dei fagioli che questa eziologia legata alla violenza nei rapporti interumani non era la classica denuncia della violenza fisica nel senso di aggressioni violenze materiali lesioni fisiche del corpo ma era la violenza psichica e in particolare la teorizzazione fagioli trova il massimo della violenza psichica interumana nel concetto di assenza cioè chi fa del male è fondamentalmente chi non c'è che assente chi non risponde chi tradisce chi abbandona chi delude e questa violenza non porta a lesioni fisiche come una martellata in testa ma porta a lesioni psichiche a lesioni di quella naturale sanità cioè fondamentalmente la fantasia e socialità con cui ogni bambino viene al mondo da lì tutte le varie poi conseguenze di racconto che è un tema super attuale quindi da qui mi verrebbe da farle tantissime domande sto pensando già al disegno di legge pillon alle conflittualità endofamiliari alla violenza di genere insomma effettivamente è sicuramente una teoria quella del professor fagioli è una metodologia posso dire due parole sulla violenza di genere visto che le interessa ecco quello che ci porta a dare una lettura diversa dalle consuete non si devono picchiare le donne mi sembra evidentemente ovvio è che quando scatta la violenza materiale quella che poi finisce sui giornali fino all'estremo del femminicidio ma anche anche meno è quella è già un fallimento di una violenza psichica perché a monte di questo c'è la violenza psichica di generalmente un uomo che anni vuole annichilire annullare in questo senso tra virgolette violentare l'identità umana di una donna quando questa fallisce questo tentativo di violenza quindi la donna si ribella la donna non ci sta allora scatta la violenza fisica ma quello è soltanto l'ultimo atto di un processo molto più invisibile iniziato prima e anche molto più perverso se mi permette molto più perverso perché a volte trova anche la complicità ahimè della vittima quali sono le cause della malattia psichica lei un pochino da ce le ha dette ce le ha accennate quando una è la violenza dei rapporti interomani quando una persona quindi è tutto condizionamento ambientale sociale scolastico familiare diciamo anche per gettare rapidissimo sguardo sulla sullo stato dell'arte della psichiatria psicoterapia attuale ecco molto dibattuto no la valenza la validità della psicoterapia assolutamente perché siamo appunto nel bel mezzo di un grande ritorno in auge di quella che era il positivismo ottocentesco cioè la malattia mentale sarebbe una malattia del cervello dell'organo cervello da cui il termine organicismo e tutto è ridotto soltanto a strutture biologiche a sostanze chimiche tutto sarebbe soltanto una variazione di adrenalina non adere non è che sono come gli umori di ipocrate non è così la malattia mentale che non è una malattia del cervello c'è una persona può avere anche il cervello distrutto ictus tumori epilessie varie situazioni organiche e a essere assolutamente sano di mente viceversa persone hanno un cervello sanissimo sono terribilmente distruttive e auto distruttive il problema è della della mente come realtà psichica è vive nei rapporti interumani nei rapporti non con la natura con le cose con i fatti e con la sopravvivenza del corpo nelle relazioni fondamentalmente affettive cognitive con gli altri esseri umani allora l'importanza dell'infanzia quindi l'importanza di infanzia perché è lì che c'è la maggiore vulnerabilità di colui che bambino ha bisogno a necessità di di essere riconosciuto di essere amato che non significa soltanto coccolato sbaciucchiato nutrito coperto riscaldato eccetera ma anche se è stato che ai fini della sopravvivenza ma è riconosciuto cioè l'altro deve sapere vedermi accettarmi avere un rapporto con me ai limiti del dell'inutile come il gioco per esempio non quindi soltanto ciò che è utile pratico la sopravvivenza del corpo ma è quello che serve per alimentare la speranza e la certezza che esista un altro essere umano come me che mi vede che mi capisce e con cui giocare fondamentale per l'autostima e l'autodeterminazione la certezza di sé per arrivare a quella certezza che dopo ti permette di resistere alla violenza allora arriva anche qualcuno che ti dice tu sei brutta tu non vali niente io non ti amo e questa persona non crolla non si fa ricattare non diventa non entra in quel gioco perverso dei famosi amori criminali per cui si lega alla proprio al proprio aggressore anche perché quelli poi insomma sono delle degli incastri perfetti no uno incudine l'altro il martello e allora dal 1980 lei esercita come libero professionista ed è anche cofondatore della cooperativa sociale di psicoterapia medica di cui abbiamo il logo lo fare vedere con finalità non solo di cura ma anche e soprattutto di prevenzione è possibile fare prevenzione noi riteniamo di sì nel 2012 una vulcanica collega Daniela Colamedici di lunga esperienza mi propose ma abbiamo passato gran parte della vita a curare non possiamo cominciare a fare qualche cosa per evitare che le persone si ammalino senza aspettare che si ammalino per poi fare i bravi terapeuti e allora abbiamo pensato che uno strumento buono efficace sia quello di entrare nel cosiddetto privato sociale e quindi fare quello che il sociale in questo momento non ha insomma strumenti e mezzi per portare avanti cioè la prevenzione e questa prevenzione che ovviamente si non può non occuparsi delle fasi iniziali della vita e comporta come dire avere avere un approccio di tipo istituzionale quindi creare una struttura che ci rendesse poi accettabile e credibile nei confronti di istituzioni uguale la scuola ed altro e così abbiamo come dire fondato questa con altri colleghi questa cooperativa nel 2012 e siamo circa una venticinquina di persone tra i soci i collaboratori il personale e ci occupiamo dai rapporti con le scuole ma voi entrate già nelle scuole o sono le scuole che devono rivolgersi a voi? c'è qualcuno che volesse rivolgersi a questa cooperativa? si si rivolge tramite sito anche tramite sito certamente quindi cooperativa sociale ricordiamolo anche se c'è l'indirizzo del sito perché insomma può interessare se ci sono delle avvisaglie in un bambino se non riesce a gestire la propria rabbia abbiamo un servizio genitoriale perché i bambini quando stanno male la la prevenzione va fatta da piccoli da piccoli siccome chi ha a che fare con i piccoli sono i genitori gli insegnanti noi abbiamo anche fatto un corso di babysitter ma infatti questo lo dico sempre questo lo dico sempre che è vero che vittime della violenza di genere degli stereotipi di genere sono le donne però sono anche il primo veicolo di trasmissione degli stereotipi di genere che portano poi alla violenza di genere perché tradizionalmente sono le mamme che educano i figli a trattare le donne esatto quindi le mamme che sono state come dire rese sofferenti per non dire distrutte da uomini poi a loro volta non potranno far altro che come dire continuare crescere figli certo su quella falsarica in questo senso possiamo dire che la malattia mentale è una malattia infettiva esatto o comunque ereditaria potrebbe già essere ereditaria non potremmo dire proprio che uno la prende per i genitori no diciamo contagiosa cioè nel rapporto interumano che ce la si passa certo non fa parte del patrimonio genetico assolutamente una tende un'ereditaria nel senso di familiarità allora il suo rapporto con la scrittura lei è collaborato ai volumi appunto di Daniela Conamedici e altri la medicina della mente noi abbiamo una carrellata di slide di copertine questo qui tra l'altro istinto di morte e conoscenza proprio del professor Fagioli non ti ho mai promesso un giardino di rose tra l'altro dei titoli anche molto stimolanti accattivanti ed evocativi Conaracne ha pubblicato la psichiatria italiana tra 800 e 900 edito nel 2018 se la regia ci manda anche le altre cover perché sono tutte eccola qui questa pure bellissima appunto edito Conaracne anche copertine diciamo fortemente evocative coautore del volume Psichiatria e Psicoterapia in Italia da lunga età ad oggi edito nel 2016 le volevo chiedere anche in questo discorso intanto che vediamo tutte le altre copertine anche questo discorso della prevenzione che rapporto c'è tra arte e psicoterapia? Dunque se in qualche modo abbiamo visto, scoperto, capito, approfondito che la patologia si genera rapporti interuani per dell'affettività perverse il termine giusto che lei ha usato ma anche per false, ecco le fake news diciamo così per l'inganno che c'è nei rapporti dire a una persona ti amo quando non è vero classico e tante altre cose allora la prevenzione è opporsi fondamentalmente da un lato a questo inganno e l'inganno non è soltanto la bugia che ti dice papà o mamma o il fidanzato è anche un inganno che c'è nella cultura c'è nel modo comune di pensare per cui si leggono e si trovano miriadi di assurdità su quello che sia la realtà la realtà millantata allora bisogna fare in qualche modo anche un'opposizione culturale a certe idee date per naturali, per normali e invece contengono una grande falsità specie per esempio nei confronti del bambino oltre che della donna essendo questi quelli che la cultura razionale fondamentalmente maschile millenaria cultura razionale assolutamente non capisce quello anche che non capisce la cultura millenaria è l'arte la cultura razionale è assolutamente impreparata sia affrontare il bambino sia la donna sia anche l'artista tutto ciò che è irrazionale che è creativo che spariglia diciamo la normalità e allora una misura in cui non viene capito e quindi spaventa e quindi spaventa spaventa colui coloro che non pensano che si possano trasformare cioè la malattia una delle caratteristiche della malattia è anche la staticità ci si ferma ci si blocca ci si ipostatizza in una situazione immobile magari per anni 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 tutto ciò che smuove un contesto può fare panico può spaventare anche perché si dovrebbe presupporsi diciamo un'ammissione anche del proprio malessere del proprio disagio ed è proprio quella che manca al più delle volte un'ammissione di questo è anche una intuizione che si possa cambiare che si possa trasformare allora questo concetto di trasformabilità implica trascina con sé il discorso della creatività cioè io posso creare fare qualcosa di diverso di me stesso innanzitutto ma poi anche della realtà esterna quello che fanno gli artisti e che qualche volta dovrebbero fare anche i politici nel senso di cambiare la realtà esterna esatto è bellissimo questo discorso mi piace molto pantarei diceva eraclito tutto scorre tutto si trasforma invece sono tutti i parmenidei esatto tutti i parmenidei e voglio dire ma vogliono mantenere lo status quo e questa cosa non va bene proprio anche per l'evoluzione antropologica e sociale dell'umanità e ringrazio il professor Giovanni del Missier di essere stato nostro ospite oggi e di averci dato questi input davvero interessanti e intensi ringrazio tutti voi di averci seguito fin qui vi do appuntamento come sempre lo sapete se volete qui a Spazio Scenico su Aracne TV a Spazio Scenico su Aracne TV a Spazio Scenico su Aracne TV se volete qui mira isegilissimo